Abbraccio a Mister Imbriani che sta passando un momento davvero delicato della sua vita, i giocatori del Parma gli hanno dedicato questa maglietta, Imbriani non mollare, anche noi vogliamo mandare questo messaggio alla famiglia di Imbriani, ma allo stesso allenatore che lo scorso anno appunto allenava il Benevento. Forza Mister, non mollare, noi tra poco partiremo con la diretta di Campionato dei Campioni, vi aspetto.